Un parto difficile è stato, però finalmente la ditta sta lavorando a pieno regime. Ieri sono arrivate le travi per la copertura del palazzetto in legno. Il nostro obiettivo rimane quello di avere all'interno del vecchio, nuovo palasport il concerto di chiusura del ROFA di questa stagione 2021 per poi ospitare i campionati di ginnastica qualora il Covid ci permettesse lo svolgere di questa manifestazione. E' un lavoro importante, ovviamente lo sappiamo tutti perché il palazzetto sarà strategico dal punto di vista sportivo, culturale, convennistico, quindi una spinta ulteriore al turismo della città che una volta terminata questa pandemia ci auguriamo riparta e riparta forte, insomma come abbiamo fatto già nel 2019. La ditta sta lavorando alla grande, sta andando molto bene, ha chiesto di lavorare già su doppi turni, quindi c'è la volontà da parte di tutti di portare a casa nei tempi stabiliti quest'opera. La ditta lavorerà sia sopra che sotto, ovviamente garantendo tutte le sicurezze del cantiere, il tetto diventa ovviamente uno degli interventi più importanti e quelli che si vedono di più anche all'occhio perché sembra che non si fa niente quando uno guarda da fuori, però dentro ci sono diverse squadre di operai che stanno lavorando e ripeto lo stanno facendo con grande energia e ci auguriamo insomma di rispettare i tempi che ci siamo dati per l'inaugurazione. Con il proseguire dei lavori si riorganizzerà anche la viabilità, per esempio la riapertura di questo tratto stradale che ora è occupato appunto dalle travi che andranno a costituire il tetto? L'obiettivo è quello di riaprirlo e riservarlo ai residenti in qualche modo, l'idea è quella di fare o di realizzare una piccola piazza su questo tratto di Viale Marconi perché poi diventa anche più accogliente per chi verrà al palastetto per sport o per convegno o per turismo in generale. Nel frattempo stiamo lavorando sul cavalcaferrovia come potete vedere, stiamo sistemando il guardrail, insomma del lato che dalla città porta verso il quartiere di Villa San Martino, cosicché potremo riportare le corsie da 2 a 3 ovviamente in discesa e in uscita dalla città e lo stralcio successivo prevederà poi l'allargamento e la sistemazione del guardrail in entrata dalla città, quindi in salita rimarrà una corsia finché poi non faremo anche il terzo e il quarto stralcio e invece in discesa ci saranno le due corsie. Stiamo lavorando, ripeto, a Stralci, nel frattempo abbiamo fatto una nuova gara per appaltare l'aspetto strutturale del ponte, stiamo ottenendo un finanziamento al Ministero degli Interni molto importante e noi ci auguriamo nel giro di qualche mese, non è un lavoro di poche settimane perché è un lavoro molto complesso anche solo dal punto di vista della sicurezza, di riportare a nuova vita un ponte che ha più di 50 anni.